ma davvero loro sta... ma perchè non salite anche voi? perchè non salgo? che cazzo succede? il padre odino è un dio capriccioso stupiscilo con la tua audacia e ti condurrà fino alla vittoria grande odino ma se l'audacia diventa presunzione allora ti consegnerà nelle mani dei tuoi nemici si capiscono tante cose che figo che è questo qua però veramente figo ma non indietre in chat però uniti nel Valhalla esatto valhalla gran bella razzia per il valhalla vai che moriamo subito Macello, violenza, violenza, vado, quanto testosterone, sconfiggi il generale, sono forti Questi fantasmi, eh, però... Puttana! Ma... Compagni? Compagni? Vado... Ah, però quello sta già morendo Fammi attaccare questo qua Ok Vieni, vieni Mannaggia Mannaggia Io ti affronterò Eh sì che ti affronterò Eh sì che ti affronterò Madonna Staccagliela sta testa E quindi che vogliamo fare? E quindi... Ma smettetela Ma smettetela Ma smettetela Ma smettetela Ma smettetela Ormai la razzia è fatta Cosa volete fare? Dai dai su, non c'è neanche gusto Indistruggibile Indistruggibile Di nuovo? Dove è volato? Ma che casino che fanno? Le tue ombre sono spazzatura Non possiamo più succedere Non possiamo più succedere Ancora ombre Non è un'incerazione divertente Eh A un certo punto anche basta MADONNA Tanto c'è il checkpoint no? Bastardo Bastardo non vale però eh Eh sì Sono proprio io eh Bastardo Ah Checkpoint Figo Ah Checkpoint Ok 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 Lassi No Deficienti però Non state fermi Oggi morirò Ma non senza ucciderli Bastardo Ah è sempre lui No 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 dalle frecce Nooo Questo è disonore Non vado nel balallo così Ce l'ho fatta Madò Adesso Adesso No 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 Ma Che Ed è che Un Insomma Non Eh, vabbè, stai calmo. Saccanizia. Oh no. Dai, dai. È lui, è lui. È il nostro compagno. Grande. Porte aperte. Sei un figaccione, sei. Era fatta. Oltre quelle porte ci attendevano tesori e risorse. La grande razzia dei sanguinari sarebbe diventata leggenda. Ah, sempre che ci sfiano, mannaggia. Mannaggia. Cinque anni fa. Se i comandanti della legione di ferro lo sapessero allora... Ah, amici. Ora possiamo parlare liberamente. Eh. Siamo tutti i tuoi umili servitori, signora. Allora, cosa prevede il piano? Guerra. Vabbè, fin lì. Fin lì. Lo stato naturale della nostra specie. E invece questi mostri la rifuggono. Fin qua hai ragione. Sono codardi. E noi saremo coraggiosi anche per loro. Non possiamo far scoppiare guerre ovunque. Ne basta una grande. Invece sì. Convertendo i nemici alla nostra causa. Eh, la peli troppo larga. Chi è che ha chiuso le porte? Chi è che ha chiuso le porte?